Musica 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 Grazie, grazie, una bella festa di approccio, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Il Kinguino! Il Kinguino! Il Kinguino! I gladiatori si difenderanno dalle pelve assatanate del pubblico che decideranno se condannare la vittoria o condannare la sconfitta al borgo alzando o appassando il pollice avanti come qualcuno mi chiamò anni fa promuleremo con la loro amata lupa che li ha dissepati di notte fresco durante tutta la scuola e poi la biga e poi Giulio Cesare che portano le idee direttamente quando lì sono scesi qua a Santa Brugio sento i giorni gioconari famiglia, sono Patrizio, senatori, schiami, imperatori riconosciamo Flora, Flora è la sua conciapura floreale riconosciamo Vesta riconosciamo Paco con l'arrivo a sua testa Roservina, Rora, Maria qui è la sua conciapura floreale non c'è il resto però non c'è il resto non c'è il resto Lo sto io a Asso di cuore, sono pazzi questi romani! 73 partecipanti, come 234 punti, vince il carnevale dei borghi 2013, il borgho di sopra di Lucio! Buongiorno! Allora, una preluca è venuta a premiare il primo premio con il trofeo del carnevale dei borghi 2015! Grazie molto e arrivederci al prossimo anno! Grazie mille! Grazie a tutti Grazie a tutti